Ha ha ha, Jotaru! La Kaia, e non che ci teletrasportiamo vicino alla Kaia DX che è nell'astronave di Mazera, o almeno così mi è sembrato di capire, poi sicuramente qualcosa avrò malinterpretato, ma tant'è. La cosa importante è che oggi arriviamo dal boss ma non lo affrontiamo, quasi sicuramente. Quindi noi siamo dentro la Kaia DX proprio. Ah, interessante. Sembra che sia stato assorbito da qualche forza aliena, perché poi è ancora in viaggio a quanto pare verso l'astronave di Mazera, non è ancora arrivato. Va bene, va bene. Io, ok, qui ci sono i nemici e allora mi trasformo subitissimo, che tra l'altro non è neanche la trasformazione finale questa, ma... Eh, 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 ci è rimasto poco. Ok, ok, sono fattibile a quanto pare. Ok, va bene. Eh, 440 di livello, ma... Boh... Non è proprio il livello loro. Ah, ok. Eh, sempre un po'... Ah, è tipo... Ah! Ah, ma è una bomba! Nice! Ah, si va qua. Oddio, sono ciecato. Bene, bene. Abbiamo gli alienacci. Vorrei evitare di... Aspetta, fammi andare qui, fammi andare qui, che è meglio. Mi sa che c'è qualcosa di interessante. Sì, bisogna andare qui. Vai, grande. Grande, Gianni. La cosa buona è che ci so prendere botte solo io, però. Perché se non le prendessero i miei compagni... Cosa sto facendo? Perché mi muovo? Ma perché lì fluttuavo? È un po' strano. Qui? Ah, mi teletrasporta! Wow! Ma che sei tu? Ah, ma era dei nostri? Ma sono scemo, allora. Sì. Si attivano lanciandogli contro le teste di questi alieni o quello che siano. Ho capito. Va bene, va bene. Non mi interessa, allora, in questo momento. Ah! Bene, bene, bene. Quindi quelli creano l'antigravità. Sono antigravitazionali, in poche parole. Interessante come meccanica. Non è per niente originale, ma mi piace. Oh, qua c'è il boss. Ah, ragazzi, qua c'è il boss finale. Cioè, il boss finale, il boss di questo... Akaya di Axe. Stop! Cioè, perché in inglese? Ma cos'è Darth Vader? Ahahahah! Ahahahah! Questo è Riegel. Riegel 7. Però certo che Mazera, più forte di Darth Vader? O quello che dovrebbe essere Darth Vader, comunque. Double Vader. Ah! Certo! Dopo che è stato sconfitto, ovviamente, è passato al lato oscuro. Mamma mia. Quanto ci bello. Sarà anche forte? Sicuramente. Mise Tearo. Certo. Ok, non sembra troppo forte. Però mai sottovalutare il nemico, ragazzi. Prima regola del combattimento. Magari evitare di farsi uccidere? Con due colpi? Eh, Andrelink? Cavoli. Ce l'ha con me, mi sa, eh. È un po' cattivello. Ah, sì, 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 sì. Un minimo di knockback, non dico tanto. Poco. Pochissimo, andrebbe benissimo. Poco. Mamma mia. Che cattivo. Sì, ma non sta più prendendo danno? Ah. Ero io che non ci vedevo. E sì, sì, vabbè, però. Se tu mi fai il target limitato a quell'area, io mi sposto poco vicino, così non mi prende. E invece no. Fa un danno comunque maggiore? Su quale universo? Se poi, vabbè, io sto attaccando, ovviamente. Devo stare immobile? E tutti gli attacchi possono prendermi come a loro, più così confà. Però se intanto riesco a evitare anche poca roba, è così arrabbiato. Uppola. Eh sì, quelle bisogna evitare. Oddio. Ma fa l'attacco super potente. Iper spaziale. Ah, ha finito? Già, quello. Uppola. Quello era l'attacco super, iper devastante. Dai, Dober. Su. C'è il tuo amichetto Andrelink. Qui, dai. Che però si fa male perché tu sei il maledetto. Ok, scappa, scappa, scappa Andrelink. Dai. Oh, l'amichetta nostra qui che ci dà supporto. Oh! Aiuto. L'ho dimenticato di saltare. Ok. Oh, l'abbiamo bloccato? C'è un su? C'è un su? C'è un su? C'è un su? Dai, dai, dai. No. No, cavoli. Ragazzi, se mi muoio ora, se muoio ora, se muoio ora davvero, eh. Ok, 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 vai, vai. Buono, è andato, è andato. Wow, 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 wow. Iuuu. Non è ancora finita? Non è ancora finita? Oh, cavoli. C'è la seconda fase? Ma dai. Ma... Ah, c'è lui. C'è Riegel. Quanto è forte Riegel? Ci devasta anche lui? Ci devasta? Attaccatelo un po' per vedere quanto è forte. Oddio, è duro. Bello forte, eh. Wow, cazzo a ruola. E cavoli se fa danno, però, sto coso. Dov'è? Mamma... No, vabbè, dai. Ma è esploso tutto, è esploso. Dai. Uuuu. Uuuu. Ragazzi. Ragazzi, gli ho respinto l'attacco mentre mi trasformavo. Quale fortuna. Quale fortuna ho avuto di riuscire a fare tale impresa. Quale fortuna è stata? Ok, fai i tuoi giochetti di luce. Uuuu. Come l'ho evitato quello? Non lo so neanche io. Non lo so. Scappa, scappa. Grande. No, ragazzi. Non ho più nulla per curarmi. Devo fare attacchi mirati e attenti. Ora. Grande. Grande. È fatta, raga. È fatta. Sì, è fatta. Psych! No. Ma dai, ma un altro coso ci sta? Sì, però, ragazzi. Cioè. Sappiamo che non sarebbe stato tutto pizza e fighi, però. No, anche la trasformazione è finita. Eh, questo lo facciamo così, lo facciamo. Devo aspettare che mi ricarico... Ah, cos'è quello? Ho paura di tutto, ho paura ora. Perché un qualsiasi colpo mi fa fuori. No, vabbè. No, no. Che danno è quello? Che danno era quello, ragazzi? Ma che danno era? Sì, vabbè. Buonanotte. Sì, però, ragazzi. Che danno fa questo? Cioè, dai. Oh, cavoli. Oh, cavoli. Oh, cavoli. Beh, che ci abbiamo quasi fatta, ragazzi. Grande. Io pure attacco con quello che posso. Però, ragazzi, direi che ci siamo, eh. Eh? Mamma mia. Che cosa è stato sto incontro? Che cosa non è stato? È finita ora? Sì, è finita. Tre boss, raga. Tre boss. Vai. È andata molto meglio di quanto mi aspettassi. Molto meglio di quanto mi aspettassi. Perfetto. Ora devo... Niente, aspettare che finisca. 88.000 punti esperienza. Un livellino lo facciamo con 88.000 punti? Siamo saliti di due livelli sconfiggendo Double Vader. Quindi, tanta roba. Attenzione, stiamo ricevendo una chiamata da Emma. Come ologramma, anche se non lo vediamo. È solo per fare scena. Mazera è praticamente sul... Ah, aspetta. Ma allora, noi siamo nella caia DX che però era stato preso in controllo da Mazera. Non che la caia DX stava entrando... Era, diciamo, entrato nell'astronave. Era fermo, allora. C'era tipo una specie di barriera di forza che non riusciva a superare. O almeno questo è quello che mi pare di aver capito. Poi, se... Quando uscirà una versione italiana, cioè Mai, potremmo capire meglio. Oh, 305 di livello. Buono. Il problema è che io ho sbloccato tutti i Power Sight e... Sto a 340 massimo. Forse con l'ultimo DLC se ne sbloccano altri? Non lo so. Però penso di aver capito il modo. Penso di aver capito. Dunque, a quanto pare Mazera vuole far schiantare sulla terra la caia DX. E devo affrontare Mazera. Quindi la prossima missione del DLC sarà l'ultima. Il boss, sì, è Mazera. Wow. Sarà molto interessante il prossimo episodio, allora. Dovrò però forse salire di livello intorno al 310, 315, 320 massimo, forse. Forse al 340, devo fare tutti quanti i livelli. Ad ogni modo, ragazzi, il video termina qui. Pensavo di non affrontare nessun boss e tipo girovagare così a caso dentro la caia DX. Invece no. Abbiamo affrontato tre boss, uno più duro dell'altro. Duro nel senso di difesa. Uno più resistente dell'altro. Ragazzi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Spero che vi sia piaciuto. E come sempre in descrizione trovate il link per Instagram. Shoutout dalla YouTube Start Game che ha l'abbonamento Starry. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye.